Oggi ci sono anche le mamme per ribadire ancora una volta il no alla discarica. Che cosa ci potete dire? Sì, anche oggi siamo qua in questa occasione per questa manifestazione molto simpatica ma comunque che ha un suo significato insieme ai bambini che sono il futuro. Noi continuiamo a dire che siamo sempre sul pezzo come mamme. Ancora in settimana ci siamo incontrati con l'assessore Gian Pedrone insieme al nostro sindaco che dopo la visita che hanno avuto in discarica e noi andremo avanti, non siamo contenti anche perché ci sembra anche alla luce di quello che è uscito oggi sul giornale un altro articolo di questa situazione che non è chiara. Noi chiediamo chiarezza e trasparenza come stiamo chiedendo da 5 mesi a questa parte.